Si è appena concluso un incontro incentrato sulle bellezze e le eccellenze dell'Emilia Romagna ma con un occhio al futuro, un occhio verso il 2025. Sì, è proprio così. Abbiamo presentato sotto il brand Romagna Empire intanto le novità, novità su scavi, parchi archeologici e musei e così anche le vision per un futuro anche di medio e lungo periodo con nuovi contenitori culturali. Sotto il marchio Romagna Empire vi sono non solo le proposte museali e ovviamente di monumenti che spazzano dal monumento UNESCO fino alle terme romane ma anche una serie di iniziative, festival ed eventi che corrono lungo tutto il 2025. Dalle rievocazioni che ci fanno ritornare a vivere un'esperienza a quelli che sono gli approfondimenti più storico e archeologici. Abbiamo la proposta in particolare di pacchetti turistici ovviamente che ci rendono forti da tutti i punti di vista con l'accoglienza romagnola e le esperienze laboratoriali per scuole e quindi didattica ma per tutte le età così come ovviamente itinerari più legati all'esperienziale in Romagna che coniugano il buon cibo con la cultura e la storia del nostro territorio.